E' in vigore il piano della mobilità di Natale messo a punto dal Campidoglio con l'obiettivo di agevolare l'uso del trasporto pubblico durante il periodo delle feste. Sino al 7 gennaio tre linee di bus gratuite raggiungeranno il centro mentre le ZTL saranno attive con orario lungo. In particolare i collegamenti bus gratuiti attivi tutti i giorni sono la Fri 1 e la Fri 2 che partono rispettivamente da Termini e dalla stazione Ostienze e arrivano a Largo Chigi e poi la linea 100 che viaggia tra il rione Ludovisi, Porta Pinciana e Piazza Cavour nel rione Prati. Sempre sino al 7 gennaio le ZTL di urne di centro e tridente saranno attive tutti i giorni dalle 6 e 30 alle 20. Tutti i dettagli sul sito romamobilità.it